Abbiamo il Valdarno Cinema Film Festival e abbiamo il direttore artistico di Valdarno Cinema Film Festival e Paolo Minuti in diretta con noi. Chissà, magari può essere l'occasione buona per un viaggio in Toscana il Valdarno Film Festival per tante ragioni, per l'iniziativa e poi perché è in corso una bellissima mostra che racconta il film che ci ha tanto emozionati, Pinocchio di Matteo Garrone, un film, eccolo, il nostro Pinocchio con Roberto Benigni, immenso Roberto Benigni e poi il piccolo che ci ha veramente emozionati. È una bella mostra ed è un viaggio, può essere sia un viaggio fisico, sia un viaggio da percorrere attraverso la fotografia. Direttore, come sta andando? Benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Il Valdarno Cinema Film Festival si è concluso domenica, il primo premio l'ha vinto le sorelle Macaluso di Emma Dante che ha devoluto il premio all'associazione Pangea Onlus perché vuole sostenere le donne afghane, la presidente della giuria era una regista afghana Diana Sakeb e quindi questo è un bellissimo gesto che mi piace sottolineare. A differenza del festival, la mostra invece è stata inaugurata il penultimo giorno del festival e quindi resterà diversi mesi esposta al Palazzo Palomar, che è il nuovo palazzo della cultura di San Giovanni Valdarno e che avete visto dalle immagini, l'ultima immagine era proprio la sala di questo palazzo dove sono esposte queste fotografie e quindi questa mostra è visita, eccola appunto, questa mostra è visitabile per diversi mesi. Che meraviglia, è una meraviglia, direttore, infatti è proprio della mostra che volevo parlare, visto che è cominciata da poco e che sarà possibile visitarla per un po' di tempo, è un'occasione per rivedere la Toscana ed è un'occasione per rivivere il fantastico film di Matteo Garrone Pinocchio e rivedere la bellezza di questo film. L'anno collogiano, ricordiamo 140 anni dalla prima edizione di Pinocchio e quindi queste fotografie sono importanti perché sono le foto del set fatte da Greta De Lazaris, che è la fotografa di scena dei film di Matteo Garrone, lei è anche fotografa a prescindere da questo, fa anche fotografie sue e è anche direttrice della fotografia di alcuni film documentari, tra cui quello di Jacopo Quadri Ultimina, che era anche in concorso, ma la cosa interessante è che queste fotografie, che sono una selezione delle tante che lei ha scattato, sono fotografie di scena in cui si vede il backstage in alcune, si vede il lavoro dei costumi, si vede il lavoro dello scenografo, perché l'obiettivo è far vedere cosa c'è dietro la costruzione di un'opera come questa, molto elaborata, molto complessa. Tra l'altro i costumi sono di Cantini Parrini, che è stato candidato all'Oscar per questo film, ed è toscano e ha vinto sia Nastro d'Argento che David Di Donatello alle ultime edizioni, che non è una doppietta così frequente. Però le foto hanno, queste fotografie hanno un valore in sé, perché Greta è riuscita a dare quella luce, quel controluce che lei ha dichiarato di amare nel far fotografie, che le fanno sembrare quasi dei dipinti caravaggeschi. Ecco, in questa foto vedete Jacopo Quadri, il regista di Ultimina e il montatore dei film di Mario Martone, che era presente quel giorno. Queste fotografie hanno questo vantaggio, perché oltre a informare su cos'è il backstage, su quali sono i mestieri del cinema, cosa sta dietro, appunto, questo tipo di costruzione molto elaborata, il giovane Ielapi che avete appena raccontato, ogni giorno faceva quattro ore di trucco, perché lui comunque doveva stare in scena ogni giorno e poi altre ore per struccarsi, quindi un lavoro estenuante che ha retto con molta forza. E però vedete anche delle opere d'arte in sé, quindi c'è sia l'elemento informativo su come si realizza un film così, ma anche il valore in sé di queste fotografie, che con la luce riescono a dare un'idea molto bella e molto suggestiva. Ecco Greta De Lazzaris insieme a Jacopo Quadri. Ah, fantastico, è un viaggio che bisogna compiere, quello con la fotografia, un viaggio che ci dà la possibilità di rivedere, rivivere un film che ci è molto piaciuto, Pinocchio di Matteo Garrone, con tanti protagonisti, Geppetto, Gigi Proietti, poi Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, Nel Gatto e la Volpe, un film pluripremiato con il Davide di Donatello a Matteo Garrone, per migliore pellicola, miglior Oscar, quindi premio Oscar, è stato veramente un successo che continua, grazie a questa bellissima iniziativa, a questa mostra, a questo viaggio fotografico. Complimenti direttore, complimenti per la scelta, la scelta del film, complimenti per aver pensato ad una mostra per raccontare il cinema. Quanti modi ci sono di comunicare e di raccontare l'arte? Tra l'altro in questa edizione abbiamo omaggiato anche Nino Manfredi, che è stato il primo Geppetto cinematografico e televisivo con Luigi Comencini. Sì, nella precedente versione di Pinocchio, ricordiamo che questa è soltanto l'ultima, ma ce n'è un'altra, e poi c'è una faida tra le due pellicole, meglio Pinocchio di Comencini o Pinocchio di Matteo Garrone, sono molto diverse. No, sono entrambe valide, hanno diverse caratteristiche, quindi insomma sosteniamole entrambe, assolutamente. E allora, se volete potete vedere la mostra, vedere le foto, grazie al direttore artistico di Valdarno Cinema Film Festival. A risentirci alla prossima, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. E alla prossima, abbiamo parlato anche di foto.